L'anomalia italiana non è Silvio Berlusconi, l'anomalia italiana sono i PM comunisti e i giudici comunisti di Milano. E da quando, e solo da quando, Silvio Berlusconi è sceso in politica e ha sottratto il potere ai comunisti, lo hanno aggredito con 103 procedimenti ed indagini, con 36 processi, l'hanno messo in più di 2500 udienze, in totale sono 109 i magistrati che si sono interessati di Silvio Berlusconi e del suo gruppo. Allora domando, Silvio Berlusconi era davvero l'imprenditore più criminale della storia del mondo? È lui l'anomalia di Talla? O piuttosto l'anomalia sono i PM comunisti e i giudici comunisti di Milano che in effetti sono ormai la vera opposizione al governo e alla maggioranza eletta dagli italiani? Di Pietro, la contabilità per così dire giudiziaria di Berlusconi, questa che sentivate e abbiamo sentito ieri durante Ballerò fa paura però. Una premessa ed è una questione tecnica che ha letto lei, quindi non è che può accusare me, il reato di corruzione si chiama tecnicamente reato a concorso necessario, intanto lo puoi fare in quanto c'è un corrotto e un corruttore e la sentenza dice che il corrotto si chiama Mills e il corruttore si chiama Berlusconi, lo dice la sentenza nella motivazione, non può esserci nel dispositivo perché è stata stralciata la posizione. Quindi abbiamo di fatto acclarato con sentenza d'appello che c'è, abbiamo un Presidente del Consiglio corruttore, questo è in Italia e ci si deve chiedere se è una questione normale, io credo che sia anormale e per questo noi dell'Italia Valori chiediamo le dimissioni del Presidente del Consiglio e il 5 di dicembre su una manifestazione promossa non da noi ma dalla rete, dalla vostra movimento che c'è in rete, parteciperemo anche noi per manifestare e per chiedere formalmente e solennamente le dimissioni. Una seconda cosa, se ha corrotto un testimone, un testimone l'ha corrotto per come si può dire, tradire il risultato di un altro processo e questo è più grave, qual era l'altro processo su cui stava procedendo il giudice e che ha ricevuto un risultato diverso? Questo è ancora più grave perché sono almeno due i processi interessati e interessanti ed ancora più grave. Terzo, soltanto per un elenco e per dire, i giudici italiani non si occupano solo di Berlusconi, in queste ore abbiamo indagini fortissime in Campania contro una giunta e un governatore di centrosinistra, in Puglia contro esponenti del centrosinistra, in Calabria contro esponenti di primo piano, tutti, sto parlando tutto a livello di giunte regionali del centrosinistra, in Abruzzo è stato addirittura arrestato il governatore del centrosinistra, in Lazio, sapete benissimo che cosa è successo in questi giorni? Ma i magistrati non sono tutti comunisti, dice lei. No, 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 non sto dicendo questo. In Toscana, dove ieri hanno arrestato, in Campania, dove addirittura hanno arrestato gente di sinistra che ammazzava e gente faceva vittime. A livello nazionale, a livello nazionale, i magistrati hanno chiesto l'autorizzazione ad utilizzare l'intercettazione telefonica contro esponenti di primissimo piano, sto parlando di D'Alema, di La Torre del centrosinistra. La colpa non è dei magistrati che oggi indagano uno di sinistra e domani uno di destra, domani Berlusconi e dopodomani Di Pietro. Di Pietro, l'altro ieri, Di Pietro, io, l'altro ieri, sono stato indagato alla Procura di Roma per i bilipendi e al capo dello Stato, per delle azzardate e improvvite parole che ho detto, di cui mi scuso ancora adesso. Resta il fatto però che me la prendevo perché c'era lo scudo fiscale che ritengo una legge criminogena perché favorisce i delinquenti e umilia i disonesti. Fermiamoci un attimo, Di Pietro. Cosa voglio dire? Morale della favola. Non sono i giudici comunisti, sono alcune persone che, mentre fanno politica, sono accusati e devono essere sotto processo perché ci sono indizi di reati nei loro confronti. Chi è indagato? Corre dal suo giudice a farsi processare, non criminalizzi il suo giudice perché ieri ha condannato Berlusconi, lo stesso giudice che la volta scorsa l'ha assolto per il processo Sbè. Allora, quando l'assolve va bene, quando non l'assolve è comunista? Grazie. 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 Grazie.